Siamo pronti 50 metri, 2,30 e 3,50 metri Abbiamo la scuola 152 giugno Che chiude con 33 e 19 Aia, ammicchiamo l'incomometri Quante interiore di questa seconda battaglia I cronometristi mi dicono che al primo passaggio Per chi si sente interessato Al primo passaggio Io non lo dico, sono gran casime ragazzi Allora andiamo verso questi 50 metri ultimi Con la nuova 74 L'unica che chiude in 3-1 e 81 Allora andiamo Dio e andiamo a 2-3-3 che è bellissime andiamo a 2-3-8 Sofia che chiude il 34-4 Anzia della quadra prese sentita nella scherone Sofia del calone Viola della scherone Arianna la diretta del calone Vai, vai, vai il 43-4 Anzia che chiude il 35-4 45-4 Allora, qui in questa batteria abbiamo l'Ucrezia del Salone Line Giulia del Calone Allora, sono state armata nella partita Abbiamo anche scattato di un po' lì a casa E' un po' lì a casa E' un po' lì a casa Vediamo quanto fa la pasta La pasta E' una... E' una luce E' un po' lì a casa 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 E' un po' di 50 metri Anche in questo caso Con l'atleta numero 8 Lucrezia che chiude con 3 E' 0-2 E' un po' lì grazie il numero 82 a mese con il tempo di 33 e 74 e andiamo a chiudere questa batteria con Matilda che chiude con il tempo di 33 e 96 e il numero 82 a mese con il tempo di 33 e 24 e 24 Veloce, 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 veloce. Veloce, veloce, veloce. Veloce, 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 veloce.